Anche per il 2013, con un bando che vale 14 milioni di euro, l'INEIL eroga in campagna contributi per progetti di investimento rivolti a migliorare i livelli di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Destinatari della misura sono le imprese di tutti i settori, anche in forma di ditta individuale, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il contributo, che copre fino al 50% dei costi da sostenere per realizzare i progetti, può arrivare fino a 100 mila euro per investimenti per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro. L'intervento riguarda anche l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, i settori previsti da accordi INEIL e parti sociali. Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva, riferito alle tipologie rientranti nelle due categorie sopraindicate. Nel caso in cui il progetto sia mirato alla riduzione, eliminazione e prevenzione di più cause di infortunio o fattore di rischio, la valutazione dell'intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio o fattore di rischio che l'impresa indicherà nel modulo di domanda. Le domande devono essere presentate in modalità telematica sul sito www.inail.it a partire dal 15 gennaio 2013 entro le 18 del 14 marzo 2013.